Ciao a tutti ragazzi, sono Davide96. Volevo comunicarvi che la Epic Game Store ha regalato in maniera di tutto gratuito la Premium Edition di GTA V. Quindi potete riscattarla sul loro lancer ufficiale, purtroppo soltanto su per PC, non per console. Quindi, se non l'avete ancora comprato, è arrivato il momento giusto per farlo. Un'altra cosa che apparirà una volta aperto il lancer di Epic Game Store sarà un buono sconto da 10€, che potete riscattare nei megasaldi di Epic Games. Però, ovviamente, purtroppo solo per giochi a pezzo di 15€ o superiore. Una volta riscattato il buono da 10€, quindi avete comprato un gioco, avete diritto a un altro buono da 10€, e così via. Ovviamente il buono sconto è valido fino al 1 novembre, però penso che sia abbastanza tempo per riscattarlo. Niente ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!